Una volta centrata si apre la forma La parte difficile è di montare tutti i fili La parte difficile è di montare tutti i fili La parte difficile è di montare tutti i fili La parte difficile è di montare tutti i fili La parte difficile è di montare tutti i fili La parte difficile è di montare tutti i fili La parte difficile è di montare tutti i fili La parte difficile è di montare tutti i fili La parte difficile è di montare tutti i fili La parte difficile è di montare tutti i fili Io avevo 3 anni e dopo ho imparato fino a 20 anni, dopo sono andato militare e sono andato a lavorare Ho lavorato 7 anni sull'assaggio, sulle navi, che facevo l'assaggio a due anni, ma dopo mi sono andato a 3 anni nel paese e ho ripetuto l'officio E dopo, cominciando il boom dell'edilizia, si lavorava l'ingegnere carcellico sull'ingegnere lì, ferro battuto nell'afa L'era da 70 e poi era... come si dice? Era roba del da poco, li chiamavano i l'ingegnere per gli introdotti e tutti gli uomini Perché allora era il boom dell'ingegnere, si sa caldavate, tu chiasi Non si sa costruire, no? Tagliavati, però non era... no Nel anni 80-85 è cominciato a ritornare con la destra roba attua Perché dopo, come tanto sia facile, se metta la roba di palazzo, se metta la roba di palazzo Perché non facendo la madre non viene a... conviene, no? Conviene, a chi lo fa, perché non... non dovessi far pagare un lavoro Un prezzo di ordinate che la gente... E' un paraggio a lavorare la buona, perché con un palazzo a robar... ... undercito il guardato, però dovaprès l'ingegnere per l'ingegnere? E' un viaggio a laعة, perché le 밥elli... Lo in нужно in un pezzo di котtola, ma cosa vuestra tempo all'ug�ών? E' un salto laureוש vecchio. Tu mangi understanding... Grazie a tutti. Non so se vuole mettere in un cancello, lo metto sulla porta, poi la troverà, la coppia. Vedete come è, può essere, ancora vuole. Ci vuole passione? Eh? Beh? Come state a provare? Come si può essere? Quando io sono andato a Genova, io sappiamo saltare, ma sappiamo saltare così come faccio la vita. Ecco da me, quando si va, sono andato nell'alzardo, lì dovevi fare tutte le saldature sopra testa, verticali, non è semplice. Lì ci fanno la radiografia, non la saldatura, perché deve essere. Ma io sono andato due giorni, che mi sono andato a mangiare, un amico che mi ha insegnato, quello di dire. Ci vuole la passione. Dopo certo, io già avevo un po' di cose, dopo per me è stato facile, però. Ci vuole il sacrificio. Ho fatto la società dell'89 con quel... E' bravo, è un gran motivo. E' un campanato di ragazzino, e li ha appunti solo per piccetti. Ma io ho tanti ragazzi che sono venuti qui da me. Mi insegniamo, ci stavano una settimana. Se mi guadagni, perché se veniva il giorno si diceva, manca i medagli. Io... Com'è? Io spiegò un segnato. Ecco, mi guardo, voi sopra, io con le mani sembrate. Madonna, Niep했습니다. Cosa vai? Eh no? Grazie. 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 Grazie.